Ciao ragazzi sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video. Questa mattina Nikon con un evento live trasmesso in diretta mondiale sul suo sito internet ha presentato ufficialmente al mondo le sue nuove mirrorless full frame, la Z6 e la Z7. Vediamo insieme di capire di cosa si tratta. Come riferimento prenderemo come al solito il comunicato stampa ufficiale di Nikon che cercherò di depurarvi il più possibile dalla fuffa del marketing. Nikon è lieta di annunciare al mondo il rilascio delle mirrorless full frame o FX per chi conosce la nomenclatura Nikon, chiamate Z6 e Z7 insieme a delle lenti Nikkor Z con un nuovo attacco ad ampio diametro chiamato appunto Nikon Z Mount. Iniziamo intanto con le caratteristiche principali di questi due nuovi corpi macchina. Allora la Z6 e la Z7 avranno un nuovo sensore CMOS retroilluminato con un sistema di autofocus a rilevamento di fase integrato nel sensore e un nuovo processore d'immagine X-PID 6. La Z6 avrà 24,5 megapixel con una gamma ISO nativa che va da ISO 100 fino a 51.200, espandibile fino a ISO 50 e ISO 204.800. La Z7 avrà invece 45,7 megapixel e una gamma ISO nativa da 64 a 25.600, espandibile a ISO 32 e ISO 102.400. A livello di autofocus la Z6 avrà 273 punti di messa a fuoco mentre la Z7 ne avrà 493. Per entrambe la copertura sarà di circa il 90% del fotogramma con un sistema di autofocus ibrido in grado di passare in automatico da un sistema a rilevamento di fase a uno a rilevamento di contrasto. Le nuovi lenti Z sfrutteranno appieno questo sistema ottenendo in teoria almeno secondo quanto dichiara Nikon una messa a fuoco più rapida, silenziosa ed accurata. Tutte e due le mirrorless avranno un mirino elettronico OLED da 3690 punti con una copertura del 100% e un ingrandimento di 0,8 per. A quanto dice Nikon inoltre hanno aggiunto un sistema di rivestimento al fluoro sulla parte dell'oculare che dovrebbe respingere in teoria lo sporco, insomma tenere la parte dell'oculare più pulita. L'ergonomia delle due fotocamere cerca di prendere il meglio dai due mondi quindi il corpo macchina è abbastanza compatto e in teoria anche leggero ma con un grip abbastanza pronunciato che sembra dare la possibilità di raggiungere facilmente tutti i comandi, tutti i vari pulsanti. Parlando di grip sulla parte laterale c'è lo spazio per le schede di memoria o meglio per la scheda di memoria. Sì ragazzi la Nikon su queste sue nuove mirrorless full frame ha inserito lo spazio per un singolo slot di memoria XQD e onestamente questa cosa mi ha lasciato veramente spiazzato tenendo conto che questi sono dei corpi macchina destinati anche ad un'utenza professionale dove il doppio slot aiuta moltissimo in particolare per fare il backup in fase di scatto e non rischiare di perdere il lavoro. Avere un singolo slot è una caratteristica, una scelta che non condivido affatto. Insomma gli ingegneri di Nikon hanno avuto tantissimi mesi per studiare la concorrenza per progettare questa nuova fotocamera da zero e dopo ci vanno a inserire un singolo slot dove lo spazio per due XQD ma anche solo per due SD, una XQD, una SD che è un pochino più piccolina insomma c'era tutto, veramente una scelta che non condivido. Poi vabbè magari un amatore se ne frega di questo aspetto ma insomma fatemi sapere anche qual è il vostro parere qua sotto nei commenti. Passiamo brevemente alle funzionalità video di queste nuove mirrorless di Nikon. Allora la Z6 e la Z7 saranno entrambi in grado di registrare video in 4K fino a 30 frame al secondo in full HD fino a 120 frame al secondo. Nikon ha poi strizzato l'occhio ai videomaker perché grazie all'uscita HDMI pulita sarà possibile collegare queste mirrorless a un registratore esterno e registrare il video in 10 bit con l'N-Log che è la versione Nikon del Log, un profilo colore piatto che aumenta di moltissimo e riesce a far sfruttare al meglio la gamma dinamica del sensore. Esattamente come le mirrorless della concorrenza anche questa Z6 e la Z7 hanno la stabilizzazione integrata nel corpo macchina fino a 5 stop che si riduce a 3 stop quando si vanno ad utilizzare delle lenti vecchie Nikkor non Z-mount con l'adattatore FTZ che vedremo tra poco. Per concludere la panoramica sul corpo macchina parliamo di scatto a raffica e per quanto riguarda la Z7 quindi la fotocamera a risoluzione maggiore questa si ferma a 9 frame al secondo mentre la Z6 arriva a 12 frame al secondo. Entrambe hanno un display posteriore touchscreen da 3,2 pollici orientabile non completamente a 180 gradi quindi non ha il selfie mode ma questo diciamo che è in linea con magari la concorrenza di Sony. L'unica full frame al momento che lo fa è la 6D Mar 2 che sto utilizzando per registrare che ha lo sportellino scusate il display che si ruota completamente per potersi vedere mentre ci si riprende. Diciamo questa non è una caratteristica fondamentale ma per chi fa video su YouTube video in cui si riprende da solo magari poteva essere un piccolo plus ma insomma in questo caso niente di grave. Altra cosa interessante è che queste nuove mirrorless supportano tutti gli accessori Nikon precedenti ad esempio i flash e soprattutto anche le batterie in questo modo magari chi ha già delle fotocamere Nikon precedenti e vuole fare il salto a questo nuovo sistema full frame mirrorless potrà sfruttare tutti gli accessori che ha già in suo possesso. Passiamo infine ai prezzi e alla disponibilità. La Z7 sarà in commercio dal 27 settembre di quest'anno al prezzo consigliato di 3.399 dollari e 95 centesimi per il solo corpo macchina mentre il kit con il 2470 F4 Nikkor Z-mount che vediamo dopo sarà a 3.999 e 95 centesimi dollari ovviamente. La Z6 sarà invece in commercio indicativamente da fine novembre non hanno ancora rilasciato una data definitiva al prezzo consigliato di 1.999 e 95 per il solo corpo e di 2.599 e 95 in kit sempre con il 2470 Z-mount F4. Passiamo adesso a parlare di lenti e scusatemi per il cambio di location ma il prima il sole alle spalle stava iniziando a diventare abbastanza fastidioso e prima delle lenti parliamo del nuovo attacco Z che è il cuore come dice Nikon di questo nuovo sistema. Attacco che è stato riprogettato rispetto al precedente F-mount in modo da garantire la possibilità agli progettisti quindi agli ingegneri di realizzare delle lenti molto luminose con un'apertura massima in questo caso di F0.95 mentre tutte le precedenti lenti per Nikon per F-mount si dovevano fermare a F1.4 che ovo intendiamoci ragazzi è già molto molto luminoso ma evidentemente non era abbastanza per quello che ha in mente Nikon per il futuro e questo nuovo sistema inoltre riesce a garantire una maggiore velocità di trasferimento dati tra il corpo macchina e la lente garantendo stando a quanto dicono loro una maggiore velocità e accuratezza nel sistema di autofocus e appunto migliorando l'esperienza d'uso generale. Le lenti che verranno rilasciate inizialmente con questo nuovo sistema mirrorless sono tre. Parliamo di un 24-70mm f4, un 35mm f1.8 e un 50mm f1.8 mentre verranno rilasciati successivamente tutta una serie di alte lenti secondo un piano che magari dopo guardiamo più nel dettaglio tra cui un 58mm f0.95 che sarà veramente un mostro sia come apertura massima ma posso anche solo immaginare il costo di cui non se ne parla ma sicuramente qualche migliaio di euro. Altra cosa è che Nikon ha annunciato il rilascio di un suo adattatore FTZ quindi da lenti con attacco F-mount ad attacco Z. In questo modo sarà possibile riutilizzare praticamente tutto il parco ottiche precedente di Nikon anche su questa nuova mirrorless, su queste nuove mirrorless scusate. Di questo magari ne avevamo anche già parlato nei commenti sotto il precedente video dove stavamo analizzando i rumors. C'è chi lo odia, c'è chi lo ama, secondo me la verità sta un pochino nel mezzo. Allora è vero che avere un adattatore è comunque scomodo perché comunque vai a inficiare la leggerezza e la comodità di un sistema mirrorless ma pensando a chi ha già un investimento precedente in Nikon e quindi ha già un corpo macchina e soprattutto un parco ottiche preesistente il passaggio a questo nuovo sistema full frame sarà molto agevolato da un adattatore, adattatore che è progettato dalla stessa Nikon e quindi la velocità dell'autofocus dovrebbe essere alla pari delle lenti native. Cosa che invece in genere non succede utilizzando magari degli adattatori cinesi, adattatori di terze parti che devono andare a interpretare a posteriore gli algoritmi di messa a fuoco. Ecco in questo caso Nikon ha tutto in casa, se l'è costruito lui quindi mi aspetto che abbia delle performance eccellenti. Sulle tre ottiche nuove che verranno rilasciate allora in generale non c'è moltissimo da dire sono state progettate interamente per questo attacco a Z, hanno dei nuovi motori di messa a fuoco molto silenziosi che sono pensati anche per l'utilizzo nel video quindi strizzano l'occhio anche in questo caso ai videomaker e inoltre sono tutte sigillate quindi resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua e hanno un rivestimento al fluoro sulla lente frontale che aiuta a respingere lo sporco. Altra cosa per quanto riguarda l'adattatore FTZ e in parte l'abbiamo accennato prima quando parlavamo dei corpi macchina è che consente di sfruttare la stabilizzazione del sensore di queste nuove mirrorless non fino a 5 stop come per le lenti native Z mount ma fino a 3 stop sia per la parte foto che per la parte video quindi tutte le lenti precedenti Nikkor che non erano stabilizzate utilizzando questo adattatore su questi nuovi corpi macchina Z6 e Z7 diventeranno automaticamente stabilizzate quindi sia per chi fa foto ma che per chi fa video secondo me è comunque un buon vantaggio. E passiamo a vedere un pochino la roadmap quindi il piano di rilascio delle lenti che Nikon ha pensato. Allora come detto verranno rilasciati subito queste tre lenti per il 2019 è previsto il 58 mm f095 a cui seguiranno un 20 mm f1.8 85 mm f1.8 il 24 70 f2.8 e il 70 200 f2.8 e un 14 30 mm f4 a seguire nel 2020 prevedono un 50 mm f1.2 un 24 mm f1.8 e un 14 24 mm f2.8 di queste ovviamente non abbiamo delle date precise ma si spera almeno per il 2019 che si abbia un parco ottiche più o meno completo con tutte le lenti professionali anche per chi utilizzerà queste nuove mirrorless Z. Per quanto riguarda i prezzi e le disponibilità il 24 70 f4 e il 35 mm f1.8 saranno disponibili da subito quindi dal 27 settembre con un prezzo rispettivamente di 995 dollari e 95 per il 24 70 e di 849 dollari e 95 per il 35 mm f1.8 mentre il 50 mm f1.8 sarà rilasciato più tardi verso ottobre non specificano la data in questo caso con un prezzo suggerito di 599 e 95. L'adattatore FTZ sarà anche lui disponibile fin da subito dal 27 settembre a un prezzo di 249 dollari e 95 ma se comprate la nuova fotocamera entro l'anno insieme all'adattatore sarà scontato di 100 dollari quindi alla fine lo pagherete solo 149 dollari e 95. I prezzi in euro mi aspetto che siano sostanzialmente simili questo vale sia per i corpi macchina che per le lenti perché tenendo conto del cambio delle tasse cose di questo tipo in genere sono più o meno uguali a quelli in dollari se non a volte anche leggermente superiori. Ecco sui prezzi secondo me c'è da fare una considerazione allora il 24 70 intorno a 1000 dollari 1000 euro ci può stare anche se forse è un pochino caro ma quelle che sono veramente care secondo me sono le lenti fisse quindi il 35 mm f1.8 a 850 dollari che è veramente tanto e anche il 50 mm f1.8 intorno ai 600 dollari se facciamo conto che tutte le altre lenti ad esempio il classico cinquantino f1.8 per canon costa intorno ai 100 euro 120 euro pensare a questo che ne costa quasi 600 deve avere delle performance esagerate altrimenti non si va a giustificare questo salto di prezzo anche perché alla fine se da uno può prendersi l'adattatore poi riutilizzare il vecchio 50 mm f1.8 di nikon che costa veramente molto meno quindi su questo punto insomma non lo so vedremo speriamo che quando avremo dei sample delle lenti delle immagini di prova cose di questo tipo per valutarle bene siano veramente eccezionali esattamente come il loro prezzo ok ragazzi con questo è tutto per il video di oggi cosa ne pensate di questo nuovo sistema mirrorless full frame di nikon e se avete già nikon e stavate valutando il passaggio a una mirrorless andrete e vi butterete su queste nuove nikon z6 e z7 oppure continuerete a valutare la concorrenza ad esempio con sony fatemelo sapere nei commenti qua sotto se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao